Siamo qui con Margherita Pansiera, gara fantastica, ormai siamo abituati a vedere in anellarti una serie di successi incredibili. Il record italiano ha battuto di 16 centesimi già da quel gran tempo che hai fatto registrare gli assoluti. Sì, scendere di nuovo sotto il minuto è comunque un'emozione. Così in carico, comunque il 7 Colli per me era un po' di passaggio perché il vero obiettivo sono gli europei. Significa che lavoro bene, anche sotto carico purtroppo, quindi devo lavorare, continuare a lavorare. E niente, sono contentissima, cavolo, ho nuotato proprio bene, sono soddisfatta più che del tempo perché adesso ho la consapevolezza di come sto nuotando, di cosa sto facendo in acqua. Al giovedì del Mediterraneo, nei 200, hai già fatto intravedere qualcosa di incredibile, a 5 centesimi del record. Ora cosa dobbiamo aspettarci? Romani faccio la mia gara, poi quello che viene, viene, basta, non ci devo pensare. In bocca al lù allora. Grazie, grazie mille.